No ma ti sembra, ti sembra! Luciana, è un dettaglio, mancano i pesci per l'acquario, il resto è a posto. Ma che fine hanno fatto i pesci che avevamo di là, scusami? E sono rimasti perché hanno l'esclusiva. Ma non possiamo convincerli. Ci ho provato, gli ho parlato a lungo, ma loro muti. È una battuta! È una battuta! No, veramente! Ma per strammatizzare, è una battuta! Che tempo che fa! In Prima TV, da domenica 15 ottobre, sul 9. No ma ci devi credere, Luciana, tu non ci credi. Devi crederci. No, destra, destra, vai destra. Destra. No, no, più a destra, più a destra. Destra, questa è destra. Sinistra, ora sinistra. Vai un po' più a destra. Lì, quello lì, guarda, vedi? Eh, vedi. Lì, 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 così si... Ecco me l'hai fatto perdere. Ma cos'era? Un pesce siluro, quello che vola all'altezza del... Luciana! 9! Che tempo che fa! In Prima TV, da domenica 15 ottobre, sul 9. Guarda qua, neanche uno. Luciana, non è nemmeno una settimana che siamo qua, ci vuole pazienza. La famosa pazienza del pescatore. Ma Fabio, sono enormi. Ma uno solo, mica tutti. Guarda. Ma sono squali. Ma uno squalo, nella scrivania sta benissimo, non si è mai visto in TV, è la prima volta. Ma guarda che stai diventando megalomani. Ma no, oggi i televisori sono tutti grandi, poi noi siamo Warner Bros, Discovery, fidati di me, lascia fare. Scusi, ha detto... Ha detto. Luciana Letizetto, vorrebbe chiederle se gentilmente la domenica ci poteste affittare uno squalo. Ha detto, scusi, avete mica bisogno di un'enorme trota con gli occhiali? Si è offeso. Si è offeso. Che tempo che fa! In Prima TV, da domenica 15 ottobre, sul 9. Che fai? Faccio squalo. Ma se prendessimo questi per la scrivania? Ma sono delfini, Fabio, sono bellissimi. Brava, li hai riconosciuti. Tra l'altro mi somigliate, mettiti di profilo. Avete lo stesso naso, siete uguali, guarda. Non sei spiritoso, sai, guarda che sono una coppia come noi due, sono maschi e femmini. E lo so, sai come si chiamano? No. Walter e Yolanda, sempre noi, sul 9. Che tempo che fa! In Prima TV, da domenica 15 ottobre, sul 9. Ma venite da noi, va! Che abbiamo bisogno di persone... No, non vogliono venire. No, neanche per sogno. No, no, no. Che dici, prendiamo questi? Allora, io prenderei questo, questo, questo nerone. E quello piccolo, è il più piccolo. Ma no, signori, questi non si mangiano, non sono comestibili. Ma noi siamo mica cannibali. Ma le dobbiamo portarli in televisione, a 9, nell'acquario. Warner Bros. Discovery, Hollywood. americani. Dai, facciano diventare famosi, fanno l'autografo con la pinna. Fan, 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 fan. Eh. Che tempo che fa! In Prima TV, da domenica 15 ottobre, alle 19.30, sul 9. A me quello lì non piace per niente. Ma neanche a me. E questo, così stanno tornando. Bravissima. Vai. Dai, tranquilla, bravissima. Io ti copro. Niente, non si trova niente. Com'è che si chiamava quello? Rex. Un nome da cane? Eh, eh. Vabbè, dai, vediamone un altro. Avanti il prossimo, per piacere. Avanti un altro. Buonasera. Allora, si può mettere di profilo, per favore? Grazie. Ecco, bravo. Così. Sorrida. Ecco, adesso mi fa una faccia perplessa. Accigliata. Estrefatta. Arrabbiato. Tiri fuori la rabbia. Almeno quello, la rabbia. Tiri fuori tutta la rabbia che ha. Voglio vedere la rabbia. Va bene così. Va bene così. Le faremo sapere. Grazie. Al limite chiamiamo noi. Arrivederci. Che dici? Eh, non mi ha detto niente. Poi si possa dire anche un discreto scorfano. Abbastanza. Sto faccio da... Pesce lesso. Hai detto pesce lesso? Sì. Che tempo che fa in Prima TV da domenica 15 ottobre alle 19.30 sul 9. di me. Luciana, Fabio, look at you. You know that. Yes, it is. I have a summary. Yes, for you. Siamo, siamo, siamo. Thank you. Thank you. Ciao. 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 Thank you. Ce l'hai? Ah ah. Missione compiuta. Brava, brava, brava. Oh, hai visto io, eh? Eh, hai parlato solo con titoli di canzoni in inglese. Eh, per forza, ho fatto francese. My fish! Notre poisson. Perfetto. Che tempo che fa in Prima TV da domenica 15 ottobre alle 19.30 sul 9 e in streaming su Discovery+. Luciana, Fabio, look at you. I appreciate it, really. Thank you. And by the way, I'm so proud to welcome you guys. We are the world, we are the children. Everybody needs something. We do need it. In Prima TV da domenica 15 ottobre alle 19.30 sul 9 e in streaming su Discovery+. Luciana, Fabio, look at you. I appreciate it, really. Thank you. And by the way, I'm so proud to welcome you guys. We are the world, we are the children. Everybody needs something. No, we do need it. In Prima TV da domenica 15 ottobre alle 19.30 sul 9 e in streaming su Discovery+. In Prima TV da domenica 15 ottobre alle 19.00 sul 9 e in streaming su